siamo per iniziare questa prima partita sotto il diluvio la partita delle ore 18 iniziando sotto una pioggia incredibile mattina tra olimpo e new team quindi questa è la prima per entrambe le squadre sotto una pioggia incessante c'è da piovere adesso un po' in difficoltà perché non ricordo i nomi delle squadre calcio d'angolo qualcuno gioca quindi la prima di major sotto il diluvio sono aperte le tubature sul campo san rocco come ho detto buione eccolo qualche nome non è familiare lancia mosella ancora mosella palla fuori incredibile qua balla l'indietro ancora il mezzo chiude non si vede nulla tutta anche un vento incredibile si sta battendo una bufera ragazzi la palla che passa è difficile anche fare la telecronaca petagna appoggia col destro palla fuori ancora di mauro può andare come ancora chiacchio è il gol di chiacchio sotto il diluvio c'è l'1 a 0 guizza quindi vantaggio di là la partita è stata sospesa di qua si gioca ancora buione ancora buione chiacchio non molla ancora di forza c'è fallo petagna gira indietro a vitale di mauro recupera ancora di mauro entra in area di forza in mezzo palla fuori ancora vitale sbaglia cacchio sulla palla petagna neo campione di champions oggi veste panni dei new team ancora fallo gioca in mezzo palla che passa cappiello dice che non è stato tocco ma invece è calcio d'angolo ancora petagna in mezzo di testa palla fuori ancora si gira dall'altra parte cappiello vai al passaggio ancora palla fuori e si inizia dopo l'interruzione per il meteo per il meteo il tempo ci ha permesso di giocare per qualche minuto adesso si ricomincia vediamo il vantaggio di chiacchio per l'olimpo adesso il campo è molto pericoloso buon'uomo la blocca e va a lunga vitale chiude ancora musella musella scivolata ancora musella si gira bene adesso deve imparare di nuovo un po' i nomi visto che è stato il lupio limitati vitale può anche calciare petagna vitale palla lunga ancora di forza vitale ancora palla a petagna si gira di là si gira di là in mezzo in mezzo di testa musella arriva buione ancora buione in mezzo arriva in porta la parada di buon'uomo che va a lunga vitale di testa pronto cappiello con le mani lunga cercare chiacchio c'è petagna palla fuori pronto cappiello battere c'è messa laterale di testa vitale chi ci può andare ancora in mezzo lunga cercare buione da punto in calcio d'angolo in mezzo da punto chiude c'è ancora petagna si gira bene ancora vitale rischia la palla in mezzo a campo chiacchio c'è fallo adesso sulla palla c'è chiacchio a battere questo calcio di punizione ma in porta valla sulla barriera rimessa ancora per l'olimpo pronto cappiello va a lunga di testa ancora musella riesce a passare con un fallo pronto a battere questo calcio di punizione pronto cautero va in porta il palo la palla va a finire dentro e c'è il gol di cautero c'è il pareggio di cautero petagna ancora cautero indietro da vitale ancora gigi può avanzare di forza cautero si va da buione ancora buone fallo aderoga in mezzo di non c'era nessuno di testa pronto a battere buon uomo rinvio va a lunga petagna stop e può andare a letto ancora gira ancora petagna di forza con un fallo vitale va forte in porta valla fuori pronto buon uomo va a lunga di testa cautero c'è angolo punto chiacchio fa in mezzo borrillo la fa sua aletto si va attenzione sbaglia da cominciare ancora scivolata valla fuori rimessa per la new team vitale petagna ancora vitale dietro valla che schizza valla che schizza valla fuori pronto buon uomo di mauro c'è da punto di là di mauro se ne va in mezzo ancora di mauro avanza poi va a lunga valla che si fa tutto il campo e va fuori borrillo da vitale va a lunga che va in mezzo buon uomo la fa sua buon uomo buon uomo buon uomo buon uomo cautero valla petagna valla che esce va a lunga vai alla rimessa deve ripetere con la petagna ha letto di forza va in mezzo sta per coordinare vedo ancora dai francesco guarda francesco che passa calcio di rigore ha fermato il calcio di rigore braccio largo stava in caduta mosella sulla palla mosella contro buon uomo va mosella il risorpasso della new team 2 a 1 dice è stato il risorpasso della new team ancora attenzione si gioca ancora di là in mezzo arriva letto in mezzo buon uomo in scivolata palla lunga di mauro ancora di mauro di forza è chiuso da te francesco vado a fondo per borriello va a lunga cercare a letto ancora a letto ancora la palla che arriva adesso di che è parata di buon uomo ancora rimane la palla non entra il buon uomo vitale dai francesco ciccarelli l'altro ciccarelli ancora arriva buon uomo chiacchio anzi il bambino il bambino c'è il bambino il bambino il bambino il bambino l'altro ciccarello l'altro ciccone l'altro ciccone d'acqua di francesco battere questo rinvio palla fuori Ciccarelli guarda che passate Francesco messa con le mani palla che passa buon uomo scivolata ultima uscita qua del portiere dell'Olimpo Ciccarelli ancora Ciccarelli palla che esce come prima come prima lungo Mosella ancora ci prova col destro palla fuori a letto Mosella ancora Mosella palla esterno Ciccarelli a letto ruba la palla Riccone porta la palla fuori petagna da Mosella Ciccarelli gioca gioca palla che esce palla che passa e va fuori danni ancora va l'indietro da Vitale Ciccarelli Ciccarelli esce ancora cautero in mezzo icone fa chiacchio me la butta fuori ancora new team Mosella da petagna ancora petagna che va in porta calcio d'angolo punto da Francesco fa forte in mezzo assente fa bozzi chiude buon uomo in avanti chiacchio che aggancia di chiacchio fallo di Vitale di Mauro sulla palla tre in barriera per Borriello parte di Mauro forte deviata c'è la calcio d'angolo in prota pronta a battere questo calcio d'angolo forte in mezzo cercate Ciccarelli la palla che rimane la aletto può uscire Mauro va indietro a buon uomo che va subito in avanti il campo non consente di giocarla De Francesco la stoppa a terra e può andare a sante per cautero ancora cautero cerca letto lo trova Ciccarelli finisce qua il primo tempo vantaggio per la new team per 2 a 1 per iniziare questo secondo tempo per il vantaggio della new team per 2 a 1 cappiello in prota valla che arriva Ciccarelli chiacchio lancia di Mauro De Francesco a sante ancora perde Francesco si gira pallo di Fabozzi cautero può avanzare a sante lancia ancora cautero in mezzo a sante la tocca questa per buon uomo Ciccarelli fa bozzi ancora fa bozzi supera il fallo piastante vaffa bozzi lunga ancora cappiello di punta cercare chiacchio petagna in prota petagna ancora supera 2 di Mauro ancora di Mauro con un fallo in prota sulla palla ancora in prota ma forte in porta chiacchio la devia ma non riesce buttarla dentro De Francesco a sante ancora De Fra Mitale esce bene qua la new team cautero di punta cercare di trovare Buione che può andare Buione calcia in porta buona buona la palla che passa non riesce ad andare in porta mi vede al fondo quale che passa Olimpo e new team in prota ancora cautero passano numero vada mosella la palla che si ferma carelli la butta fuori sarà rimessa con le mani per petagna ancora calcio d'angolo si batte subito ancora De Francesco si gira va forte in mezzo a sante va là fuori buon uomo fa bozzi a sante la tocca rimessa ancora per l'olimpo la carina vitale De Francesco a sante da cautero chiaccio bene attacca di tromo si attacca di tromo si dai francesco mozilla cappella di testa a sante anche ciccarelli prima di buione buone ruba la palla indietro riccone la butta fuori petagna punta a battere con le mani vitale guardate Francesco guardate Francesco guarda che passa è buon uomo la fa sua riccone fa bozzi ancora da riccone petagna con le mani buione in aria ancora buione quella che va fuori è rimessa dal fondo per un uomo andrà riccone a battere chiacchio la tocca ma la palla va fuori ciccarelli pronto a battere con le mani si ripete la rimessa pronto petagna mozilla da buione palla troppo lunga fa bozzi ancora fa bozzi vede la palla assante riccone su di lui ma c'è ancora assante De Francesco buon uomo la para ancora buon uomo la palla che passa buon uomo Mosè assante incredibile qua buon uomo si è reso protagonista di tre prodezze parriccone lunga Di Mauro ancora Di Mauro ciccarelli in prota un po' di confusione la si cambia da te Francesco assante ancora assante finta al destro si va da col sinistro da Mosella ancora Mosella entra in area forte e mezzo arriva Petagna ciccarelli Petagna ancora Petagna Caparbio inzacca la palla in rete 3 a 1 quindi doppio vantaggio per la new team buon uomo lunga ancora chiacchio vitale esce ancora vitale a letto non ci arriva sarà rimessa con le mani per l'Olimpo che comunque non molla fa bozzini di testa vitale ancora falla fuori in prota l'indietro cappiello c'è cautero ancora cautero a letto difficoltà si va da Petagna cambia da te Francesco ancora te Francesco non molla si va da cautero in mezzo ancora Petagna pallo pronto De Francesco si batte ora qua De Francesco in mezzo vitale palla fuori se non la palla non esce esce ora Di Mauro ma troppo forte messa con le mani ancora Petagna da punto può partire messa ancora per l'Olimpo fa bozzi a letto schiacchio pronto De Francesco a battere questa rimessa va a lunga va a lunga mosella la palla di Mauro ancora ancora Francesco passa icone scivolata cioè buione da punto va da chiacchio da solo da solo di Mauro non mi è servito buione ancora cappiello per alimentare l'azione offensiva cautero da buione ancora cautero la palla che passa buione ancora non la fa uscire Petagna riesce a passare Petagna ma la palla esce da punto pronto a battere Petagna chiude e ancora palla per l'Olimpo Di Mauro può avanzare Di Mauro ancora Di Mauro non prendica la palla può partire cautero lancia lungo ancora Petagna con le mani buione da punto ancora buione non molla viene messo giù da da punto ancora di Francesco sulla palla ma in mezzo arriva buione per il 4 a 1 di buione 4 a 1 quindi Olimpo che siamo un po' sfortunati ancora buione una disattenzione di riccone quasi c'è il 5 a 1 il buione che succede qua stato il cambio entrato Maruzzelli così all'improvviso senza quasi voleva fare ma non si può va bozzi palla che passa ancora Di Mauro Di Mauro ancora Di Mauro calcio d'angolo messo dal fondo pensavamo che era ancora Mosella va in mezzo da punto chiude di testa di Francesco ancora da punto Buione si va da Petagna palla che passa Buione spizza Mosella per il 5 a 1 stava là da solo ad aspettare questa palla ancora Mosella quindi 5 a 1 sul toto pesante per l'Olimpo comunque sta giocando ma col tempo con un paio di fattori al suo sfavore si trova in giro di 4 gollo ha incontrato comunque Nanutim davvero concentrata sulla vittoria ancora in porta palla fuori ci ha provato te Francesco va buon uomo lunga di testa Buione fa bozzi lunga Italia chiude ancora Sante chiacchio ancora chiacchio passa Mosella da Buione cerca ancora Mosella ancora Mosella il 6 a 1 6 a 1 ancora Mosella vittoria larga sta per venire per la new team Borrillo De Francesco ancora De Francesco la palla non esce fallo cautero Assante dietro da Vitale ancora cautero Vitale Buione Maruzzelli ancora Maruzzelli la palla che va sbatte su fa bozzi non molla Mosella ancora fa bozzi la palla che passa e non esce cautero indietro da De Francesco ancora De Francesco viene preso da in prota e c'è fallo ma Sante la parata buono per piacere ma teniamo i termini cautero dalla banderina va forte va là fuori ciccarelli ancora dall'altro ciccarelli arriva caduano fallaccio ciccarelli ma in porta la paratona di Buonuomo che parata De Francesco ancora De Fran fa là fuori batte subito da punto gioco ancora di la palla fuori a Sante all'indietro Mosella ciccarelli salva cautero calcia buonuomo calcio d'angolo ancora ancora Sante in mezzo in porta ci ha provato Mosella palla fuori ciccarelli lunga ancora ciccarelli Buione palla fuori da punto con le mani ancora da punto passa in prota da Di Mauro ancora Di Mauro non molla in mezzo di Francesco a Sante la palla rimane là ancora ciccarelli non molla De Francesco ancora palla fuori va con le mani lunga di testa Vitale Mosella ancora Mosella palla che esce De Francesco lunga da Vitale ancora cautero non molla non molla chiacchio cautero ancora ciccarelli quasi la ruba in prota da ciccarelli se ne esce De Francesco cautero cambia lato ma c'è cappiello chiacchio viene chiuso da Vitale la palla che non esce ancora Vitale in avanti in avanti da letto ancora letto può partire da solo qua De Francesco che chiusura cappiello non molla c'è petagna fallo De Francesco una palla che va finisce qua la New Team vince per 5 a 1 ai danni dell'Olimpo allora siamo qua alla fine della partita degli Olimpo contro quella della New Team risultate che avete vincente la compagine della New Team partiamo prima da te cappiello allora partite bene sotto il diluvio con il gol di chiacchio poi è tutto in salita per voi comunque incrociate una New Team davvero forte ti passo la palla a te no noi non li conosciamo non sapevamo il livello come ti avevo ti ho già detto all'inizio noi avevamo partiti che dovevamo fare l'under però noi ci troviamo in questa maio noi abbiamo iniziato bene poi purtroppo loro sono più grandi quando il campo si fa pesante con le squadre fisiche così non diventa più calcio quindi loro hanno vinto per l'adatta fisica secondo me però continuiamo così il campionato è lungo ok grazie cappiello andiamo da Petagna allora Petagna neo campione con il Napoli adesso ti rifai la squadra con la New Team che ha dei volti familiari come quelli di Mosella e oggi vincete una gara davvero pesante appunto per il campo che non è dei migliori e ti passo anche a te la palla che hai da dire squadra tutti amici ci conosciamo bene o male tutti quanti puntiamo ovviamente al massimo al raggiungimento della Champions in primis e si spera anche di vincerla ma ovviamente dobbiamo conoscerci la prima partita ma è meno che questa squadra potrà andare comunque lontano l'unica pecca è Buglione che addirittura aveva i crampi cosa assurda però vabbè pensiamo di cacciarlo a breve ok grazie Petagna un saluto vai saluta grazie a tutti grazie a tutti